Giochiamo tutti insieme e proviamo a prendere quest'ultima parola insieme ai nostri campioni. Partiamo da alto, C-A, O finale e il terzo elemento. Alto, C-A, calibro, alto calibro, non è male, calibro, cambio, cambio, c'è un po' di parole. Alto è un po' generico, è difficile, caldo, 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 caldo alto no, caldo, calibro non è male, calibro, di alto calibro, calibro, castello, cartello, cartello, cabotaggio, cabotaggio. Alto, C-A, parole con C-A, I significati di alto, alto ok, come statura, come per esempio nei cartelloni, nei scatoloni quando c'è scritto alto, carico, alto carico, carico alto sì. Carico, carico, abbiamo detto carico, calibro, 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 calibro. Ecco il gong, Giorgio che facciamo? Compiamo il terzo elemento ovviamente. Allora stiamo per scoprire questo terzo elemento, vediamo quanto aiuterà i nostri campioni, 1118 euro, questo è il terzo elemento. Importante. Calibro, essere calibro. Avere un certo calibro, avere una certa importanza, una cosa importante, un carico importante può essere anche... Un carico, avere un carico importante... Non mi convince, non mi convince il carico, un carico non mi convince. E' così, un carico... E' importante. Caso no, un caso alto no. Può essere anche un sinonimo di importante. Eh, bisogna essere importante. Essere importante, essere... Carismatico, no, perché c'è alto. Carismatico... Un carrello, no, un caso, un... Perché tra calibro e carico il significato non cambia tanto, quindi avere un alto calibro e quindi essere importante... Io direi carico. Io direi calibro. Calibro. Ok, vai. Tempo scaduto. Giorgio, quale parola vi giocate? Diciamo calibro. Togliete pure le cuffie. Calibro. Calibro alto? Sì. Calibro importante. Andiamo a scoprirla, eh? La parola che lega, alto e importante, del valore di 1118 euro. Si tengono le mani? Sì. La nostra famiglia, Giorgio, Terry e Giorda. La parola è... E' caro. Un prezzo è caro quando è alto. E' qualcosa che per me è importante, che mi è caro. Un concetto come l'onestà che è importante, che mi è caro. Peccato però avete fatto una bellissima partita, quindi ci vediamo domani.